ciao a tutti in video precedenti abbiamo parlato dei moduli aggiuntivi e vi abbiamo spiegato come sceglierli e come funzionano in questo video voglio spiegare brevemente come regolare tarare il modulo aggiuntivo reparto corse e ringrazio tutti coloro che lo stanno acquistando installando e dandoci il loro feedback devo essere sincero sempre feedback entusiasti stiamo ricevendo quindi ma lo sapevamo perché ci abbiamo messo un'arcaterla di tempo per trovare il prodotto giusto quindi siamo abbastanza certi che nelle varie applicazioni sia un prodotto che rende davvero tanto in molti casi mi chiedono però come tararlo giustamente e ci sono due trimmer di regolazione uno più a sinistra e uno più a destra il primo noi lo forniamo generalmente con regolazione 4 il secondo con regolazione 5 solitamente questa configurazione consente di avere già un ottimo risultato quindi una potenza e una reattività molto migliorata rispetto a quelle di serie però c'è la possibilità di andare ad affinare questa taratura spostando uno per volta i trimmer se volete farlo il primo trimmer da spostare è quello che noi consegniamo con regolazione 4 quindi portarlo a 5 bisogna andare a provare l'auto assicurarsi che innanzitutto abbia preso potenza quindi si avanza la pena spostare questo trimmer 2 assicurarsi che l'auto non vada in protezione se l'auto va in protezione spegnendo l'auto e riposizionando il trimmer da 5 a 4 quindi ritornando dove eravamo partiti e risolviamo il problema quindi è solamente un qualcosa che si può verificare in fase di test in fase di taratura ma non dopo e se va bene quindi 5 5 possiamo spostare l'altro passando da 5 il primo mantenendolo a 6 il secondo quindi un trimmer per volta anche perché se l'auto va in protezione quindi siamo arrivati al limite noi sappiamo qual è stato il motivo ovvero qual è il trimmer che abbiamo spostato per ultimo quindi mai spostare due trimmer insieme in questo modo noi possiamo riuscire a capire fin dove possiamo arrivare con il modulo e capiamo quando non possiamo arrivare oltre perché la macchina va in protezione come vi dicevo prima ed è un meccanismo per impedire di fare danni chiaramente se si rompe una qualsiasi cosa sulla vostra auto la centralina originale manda il sistema in protezione per evitare di fare danni la centralina aggiuntiva è né più né meno che uno dei tanti componenti dell'auto in questa circostanza quindi se l'auto va in protezione o se vedete che non si ottengono più miglioramenti salendo vuol dire che siete arrivati quindi fermatevi nella configurazione che vi garantisce il risultato soddisfacente e sicuramente vi divertirete se per caso queste informazioni fornite in questo video non dovessero essere sufficienti noi ovviamente siamo sempre a disposizione quindi continuate a seguirci mi raccomando questi sono i nostri social youtube instagram facebook e tiktok e il nostro sito invece vi ricordo è www.repartocorsestore.it grazie alla prossima ciao 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 ciao